Gli obiettivi sono di valorizzare le imprese, le imprese che poi vi lasciamo comunicati e ci sono tutti i dati, non vi sto ad annoiare con troppi numeri, però vi dico solo un riferimento. Dal 2014 al 2019 sull'export, perché le nostre piccole imprese, con la crisi che è iniziata nel 2008, si sono trovati che l'export purtroppo non hanno avuto più quel mercato locale, si sono dovuti andare a reperire mercato all'estero. Riprendendo quel mercato all'estero si sono trovati di fronte al doversi strutturare, al dover fare rete, al doversi organizzare, al dover fare missioni e qui grazie anche ulteriormente alla Camera di Commercio del MAC che oltre alla sostenibilità iniziativa ha sostenuto nei tempi anche le fiere per poter farle conoscere, da lì si è capito ulteriormente la qualità, la riconducibilità e il valore del Made in Italy e questi hanno iniziato a lavorare, alcune imprese facevano il 100% del mercato italiano e hanno arrivato a fare anche l'80% del mercato estero, non è un dato banale per una impresa che magari ha una decina di dipendenti. Oggi, se noi vediamo dal 2014 al 2019, c'era il settore tessile con il più 25%, il settore calzature e pelletteria con il meno 1,2%, nel 2020 si è trovati con il tessile con il meno 26,1% di export e il pelle calzatore con il meno 28,1% di export. Significa che un treno è passato, sappiamo che le piccole imprese che lavoravano con le grandi case del lusso hanno perso anche il secondo giro, però abbiamo anche degli esempi, quella della spilata sarà un bel esempio per portarlo, per mostrarlo, di aziende che comunque anche nella crisi si sono riconvertite hanno iniziato a fare altri prodotti, hanno iniziato magari a fare le mascherine e da lì hanno appunto messo in piedi una macchina tale per cui oggi, oltre a trovarsi il lavoro tradizionale che sta ripartendo, si trovano un'altra fetta di lavoro importante che si sono creato quindi da ogni crisi nasce un'opportunità e noi in questo caso dobbiamo portare anche avanti quelli che sono degli esempi da mostrare ad altre imprese. Buona sfilata a tutti e vi aspettiamo venerdì 6 agosto. Come diceva la Presidente c'è un ampio spazio, bellissima location come hanno detto il sindaco e il vice sindaco chi non troverà posto a sedere può comunque assistere alla sfilata.